All'interno delle aule i ragazzi seguono insieme le ragazze tutti i corsi formativi di cucina, pallegnameria, pasticceria. L'interazione dei due sessi non per forza deve essere una cosa negativa. Abbiamo qualche caso di innamoramento ma non è un male, aiuta anche questo a una maggior partecipazione e attenzione dei minori. Sono più invogliati nell'attività. Questa è una torta per un compleanno di un ragazzo. Facendo sì che i ragazzi non fanno solo pratica a livello di formazione ma fanno anche produzione contemporaneamente che per loro è molto più soddisfacente. Può vedere come adesso hanno fatto i fagottini, hanno messo nel forno perché due volte alla settimana facciamo qualcosa di particolare per tutti i gruppi dei ragazzi che stanno qua. Cosa è che state preparando? Un sugo per la focaccia. Quali ragazzi possono partecipare? Possono partecipare anche la maggior parte, possono partecipare i ragazzi che hanno la terza media. Quanto dura il corso? Ma normalmente si inizia a settembre, settembre-ottobre e finisce verso fine giugno. E rilascia un attestato? Sì, un attestato di frequenza. Mamma mia, ci hai messo sopra anche il salmone. Grazie. Grazie.